. Anticipazioni uomini e donne del 29-3, ritorno di fiamma per Giorgio Uomini e donne Anticipazioni di domani 29 marzo, ritorna in onda il Trono Over. L'appuntamento con Cancelletto Uomini e donne ritornerà in onda giovedì 29 marzo con la nuova puntata del Trono Over. . Dopo i due appuntamenti di questa settimana con il Trono Classico, ecco che da domani pomeriggio prenderà il via l'appuntamento con la versione del Trono Over, dove vedremo che ci saranno un bel po' di novità che riguarderanno come sempre le dame e i cavalieri della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi. . Spoiler Uomini e donne puntata 29 marzo 2018. . Le anticipazioni ufficiali su Uomini e donne di domani 29 marzo rivelano che anche nella puntata del Trono Over di domani pomeriggio non mancherà il nuovo acceso scontro in studio tra Tina e Cancelletto Gemma Galgani. . Questa volta vedremo che la dama torinese non gradirà per niente il fatto che Tina abbia vestito la mummia da congiglietta di Playboy e questa cosa la manderà su tutte le furie al punto da avere un nuovo duro scontro verbale in studio. . Ma in questo nuovo appuntamento con il Trono Over si tornerà a parlare anche di Giorgio. Come ben saprete la frequentazione con Anna Tedesco può essere considerata definitivamente archiviata. . La dama, infatti, ha scelto di abbandonare la trasmissione di Canale 5 dopo le illazioni che sono state fatte sul suo conto circa la presunta relazione segreta con Giorgio. . Stando alle anticipazioni sulla prossima puntata di Uomini e Donne del 29 marzo possiamo svelarvi che Giorgio farà i conti con l'inaspettato ritorno di Paola, la donna che ha dichiarato di aver rifiutato le avancese di Giorgio durante una loro uscita. . Grandi novità per Giorgio Manetti, ecco cosè successo. Paola nel frattempo aveva intrapreso la conoscenza con Franco ma nel corso di questa nuova registrazione del Trono Over la donna ha ammesso di aver capito di essere ancora presa da Giorgio e per questo motivo ha chiesto al Cavaliere Toscano di poterle dare una seconda chance. . Quale sarà a questo punto la decisione di Giorgio? Accetterà oppure no? Sarà curioso vedere anche la reazione di Gemma Galgani, la dama ha dichiarato che ormai la sua storia d'amore con Giorgio è definitivamente chiusa ma in realtà non tutti ci credono. . . In questa nuova puntata di Uomini e donne Trono Over ci sarà spazio anche per Sossio, l'ex calciatore, diventato un po' il sex symbol del Trono Over di questo periodo, sarà impegnato in una doppia uscita con ben due donne diverse. . Come sarà andata? Una delle due avrà fatto breccia nel cuore di Sossio oppure no? Cancelletto Gemma e Giorgio. .